Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a questa puntata speciale di Pasqua del nostro programma di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze della mitiche, dove parleremo di alcune tradizioni popolari veneti di Pasqua, ci troviamo già in settimana santa e senza dubbio la Pasqua è un'epoca molto importante. A Pasqua si fondano tradizioni religiose e popolari, caratteristiche di ogni paese. La Pasqua è un momento speciale, rappresenta uno dei momenti religiosi più importanti e anche una tradizione che diventa un'opportunità perfetta per incontrarsi con parenti e amici per godersi la compagnia dei propri cari. La festa di Pasqua non è solo la festa della speranza e del rinascere, è anche la festa della fede e delle tradizioni familiari. Molto importante, allora, è poter continuare a mantenere vive e tramandare alcune di queste tradizioni che raccontano la storia e la cultura dei paesi e della loro gente, anche se virtualmente. Un elemento presente in tante tradizioni antiche, non solo in Italia ma anche nel mondo, è l'uovo. Non è solo l'uovo di Pasqua e di cioccolato, ma anche sodo per mangiare o semplicemente col guscio colorato per giocare. L'uovo è simbolo della vita, della rigenerazione, simbolo della primavera e della vita che rinasce nella natura e nel Cristo risorto. L'uovo è anche un ingrediente comune in tante famiglie e ha profonde radici nella storia dell'umanità. Si fa presente anche in diverse ricette ed è parte della gastronomia di Pasqua. Per esempio, la tipica fugassa veneta o focaccia veneta. Questa deliziosa prelivatezza pasquale è un dolce lievitato naturalmente, che conta con ingredienti come farina, burro, zucchero, uova e marzapane, oltre a mandorle e granella di zucchero. La fugassa è ideale da portare come dessert o merenda. L'uovo è protagonista anche nell'insalata dedicata alla Pasqua, l'insalata pasqualina, poi mancabile all'interno della deliziosa torta pasqualina. Si prevede anche come ingrediente del pasticcio di Pasqua e delle tagliatele fatte in casa. L'uovo di Pasqua però non è parte solo delle gustosissime tradizionali ricette popolari pasquali, ma anche di alcune tradizioni molto divertenti. L'inizio della primavera in Italia e tutto il nord, oltre a un clima più caldo, diventa l'atmosfera perfetta per l'attività all'aria aperta. Scampagnata e picnic sono un'ottima scelta per godersi delle prime giornate di primavera con parenti e amici. A Pasqua la tradizione popolare propone diversi giochi con le uova, usanza condivisa anche in altre parti del centro nord Europa. Le origini dei giochi con le uova si possono rintracciare già in tempi precristiani. A volte avevano luogo in occasione della semina in riti pagani. In alcune parti dei Paesi Bassi e in Scozia, giusto il lunedì di Pasqua, i più piccoli fanno rotolare delle uova colorate lungo un pendio dove vincera l'uovo che arriverà più lontano. Un'antica tradizione di Pasqua è il ruolo. Questo ha un gioco molto popolare anche nel bellunese e ha profonde radici contadine. Da poco è riaparso nell'attività di Pasqua, riproponendo e valorizzando questo gioco della tradizione. I partecipanti devono lasciare andare delle uova sode colorate lungo un piano inclinato con l'obiettivo di colpire le altre uova per poter ripetere così il lancio. Se non succede, l'uovo rimane nella lena sabbiosa di forma solidale, diventando anche un elemento a colpire. Rolo sicuramente prende il nome dall'azione che fa l'uovo di rotolare. Qualcosa di simile al rolo lo troviamo in Slovenia, dove si lascia scivolare l'uovo come nel gioco delle voce per colpire le altre uova già sul campo. Un'altra attività tipica del tempo di Pasqua è il gioco della righea. Qui in un cattino di terra e argilla si fanno rotolare uova sode dipinte con vari colori e cercando di colpire quelli degli avversari. Senza dubbio è un gioco tipicamente pasquale di cui esistono molte varianti. In alcuni posti come il feltrino e alimane, come piano inclinato, utilizzavano una tegola per far scivolare l'uovo sodo. Invece a Belluno e a Castion si utilizzava la tavola per lavare i panni, nota anche come lampor o lavador. I giochi di Pasqua si fanno solitamente in un giorno specifico, la Pasquetta. Come la festa di Pasqua sempre particolarmente sentita in Veneto e in tutta Italia, continua fino al giorno successivo, ossia Lunedì dell'Angelo, che si conosce anche comunmente come Pasquetta. Rimane sempre l'occasione giusta per stare con le persone care. Sono tanti i modi in cui le famiglie si preparano alla Pasqua e anche le idee per allestire e colorare la propria casa. Non è Pasqua senza delle belle uove colorate e farlo insieme ai più piccoli è sempre un'idea divertente. Da decorare le uova a fare centrotavola, biglietti d'auguri e fino a preparare le tradizionali uova di cioccolato. Gli alberi di Pasqua sono perfetti per decorare la tavola per il pranzo di Pasqua e prepararlo all'arrivo di questa importante festività. Possiamo realizzare delle ghirlande pasquali da appendere alla porta d'ingresso ma anche per decorare la casa per la Pasqua. Nell'emisfero nord inizia la primavera e a sud l'autunno. Questo cambio di stagione è anche il tempo perfetto per entrare in connessione con la natura. Sia le foglie che cadono che la fioritura della primavera sono il momento perfetto per un cambio. Si dà durante il periodo pasquale il passaggio dalle stagioni fredde a quelle calde e possiamo allora cogliere l'occasione per rinascere e per rinnovarci. Ogni cambio di stagione ci regala la possibilità di lasciare andare ciò che non ci serve più e di lasciare spazio per le cose nuove. Tempi come la Pasqua ci invitano ad ascoltare i reali bisogni della nostra anima, corpo e del cuore. Si aprono nuovi orizzonti e si iniziano nuovi progetti, intenzioni e nuova vita. Possiamo approfittare per godersi tanti incontri dove possiamo riabbracciare la propria famiglia con gli amici soprattutto in questi tempi così strani e complessi che ci fanno ricordare quanto importante sia l'amore, la pace o essere vicini agli affetti. Ora parlando di essere insieme ai propri cari in questa festa voglio regalarvi carissimi ascoltatori del nostro programma che ci seguite su Radio BN Voce delle Dolomiti e anche tramite le nostre reti sociali una poesia di Pasqua del famoso scrittore Gianni Rodari. Penso che si adatta perfettamente a questi tempi che corrono. Dice così dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto vado mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio e volteggiando di qua e di attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra, viva la pace, basso la guerra. Spero vi sia piaciuta tanto come me, penso che ci dona un po' di allegria e speranza in questi tempi così difficili e incerti. Noi nella redazione del programma Ernestina dalla fine del mondo e anche dalla famiglia belunese dell'Argentina vogliamo augurare una santa e serena Pasqua di Ressurrezione per tutti voi belunesi nel mondo. Speriamo che sia una giornata di pace e luce per le vostre famiglie e i vostri più cari. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Arrivederci amici e come dice il nostro motto di cene lontani mai soli. Auguri di buona Pasqua a tutti. Ringraziamo Inazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia. Lucio per la musica e il montaggio e il montaggio e il montaggio e il montaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.